Il 10% degli insetti impollinatori europei è sul punto di estinguersi, mentre api e farfalle stanno fortemente diminuendo e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è impegnato a salvaguardarne l'esistenza. Ecco perché la Commissione europea propone un'iniziativa per affrontare il declino degli insetti impollinatori selvatici, recependo la direttiva della Commissione europea. Infatti il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha istituito una task force con a capo il professor Antonio De Cristoforo, titolare della Cattedra di Scienze Agrarie presso l'Università del Molise che ha adottato delle iniziative di monitoraggio, raccolta dati e valutazione dirette a migliorare la conoscenza del declino degli impollinatori attraverso la valutazione dello stato di conservazione e l'individuazione delle pressioni che minacciano le popolazioni presenti nel territorio del Parco, previsti inoltre interventi per affrontare le cause del declino a partire dall'aumento della disponibilità degli habitat e dal miglioramento delle loro connettività, contrastando soprattutto in zone montane e collinari l'abbandono delle aree agricole e marginali, ricche di specie erbacea e selvatiche portatrici di elevata biodiversità. Altro aspetto importante riguarda la comunicazione con lo scopo di sensibilizzare i cittadini coinvolgendoli e promuovendone la collaborazione per favorire il loro contributo alla tutela degli insetti impollinatori.